Buongiorno a tutti, Pier Gabriele Andreoli, Vice Direttore dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena. Oggi è la giornata conclusiva della settimana della bioarchitettura e della domotica e ci troviamo qua in questo meraviglioso contesto del Museo Ferrari. Questo pomeriggio chiudiamo questa intensa settimana dedicata alla bioarchitettura, all'energia e al risparmio energetico. e tirerei delle conclusioni che sono sicuramente positive, nel senso che abbiamo raccolto molti spunti, molti casi di successo, molte cose provate e sperimentate che per noi è molto importante anche e soprattutto in un periodo come questo che effettivamente non è eccezionale da un punto di vista economico. Per cui sicuramente abbiamo trovato dei buoni spunti e degli auspici interessanti per l'anno prossimo e penso che ci rivedremo nello stesso contesto tra un anno dove potremo anche cercare di verificare quello che concretamente è stato fatto. Al prossimo anno, grazie.